buongiorno coccodrilli fa 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 come oh questo è un buon guardate quanto è stata brava la ziggiana ha controllato tutto brava ziggia così se fa se 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 ziggia se 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 vai sta calma non so voi ma io quando arrivo verso il mare apro tutto si così respiralo io si se 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 respira mano di amazon saluta mano saluta saluta così saluta così saluta il cantante se 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 i pezzi migliori però ragazzi non arrivano mai incredibile po adesso devo dire qualcosa amazon perché così va bene è arrivato un braccio una mano manca tutto il resto ragazzi è successo anche stamattina mi sono trasformato però vi voglio carichi se no non lo posso mette capito quindi fate swipe sono stato un cantante stamattina se se sono stato un cantante se dove ha parcheggiato cioè ma si può parcheggiare lì io spero che vieni la polizia qua ma che mi sei vestito da titti freddi mercoli ma chi sei un limone oggi va così ma lo sapete perché nel mio intimo c'è chili ai lati abbiamo rasato ma il pennello rimane sempre il pennello rimane sempre ragazzi eh è importante se vuoi un pennello bello vieni da francesco il meglio parrucchiere ma anche mamma mia ci potevi mettere anche le tagliatelle eh il prossimo menù lo faremo veramente sta arrivando la macchina sta arrivando la macchina ok benvenute benvenute è la puntodrillo ecce allora sì così proprio coccodrillo spiattellato e via ciao ciao come non farci notare proprio a solo sei venuto a rompi i coglioni io veramente una volta volevo stare a solo sei venuto a rompi i coglioni io eh guarda chi me ne vuoi no le minacce no a filipe le minacce vanno bene che sto facendo eh ti riempiono i braci un pochino te l'allisci ferma te che ti infilto fermo assassino guarda Mary che capello che ha fatto oh sei tornato un po mariatona fortuna mi sono fatto un po i capelli sennò al lancio entravo e abbasso la testa ci sono entrato mamma mia fortuna mi sono fatti i capelli uno dice ma i soliti 50 grammi ragazzi ha la bilancia che gli sballa ah si è tarata male salute fai salute filippe alla sante messie le coccodrillon le cincille marzo che o che boh che marchese ora come arzuca è però magna magna la tartaruga è la capovolta ha lasciato tutta la verdura e se magna tutta tu non sei un bell'esempio no ma tu non sei un bell'esempio ciarlatano ciarlatano sei un ciarlatano? si madonna guarda allora Nicolè lo crudo è lo crudo ma lo fritto? lo fritto è lo fritto ragazzi voglia di voglia fa ecco lo spaventa passeri lo spaventa se non spaventa passeri col cincilla col cincilla smetta che non faccia lo spaventi a cuore mi è adesso sorpresa perchè tra cuoche c'è feeling chi sai dove siamo? chi lo sa? vediamo chi indovina la nonna maria era tutta emozionata perchè? perchè si è benedetta eccola eh nonna maria ma ora la cucina insieme bisogna farla ebbè mi deve passare qualche ricetta la torta al testo la torta al testo la famo la ricetta sei emozionata? sei emozionata brava un applauso brava che bello direttamente sulla cucina oh ho capito non succede niente oh vedi che bello saluta ciao saluta a tutti speciale a nonna maria a nonna maria a nonna maria con affetto e simpatia va pure lì vedi grazie benedetta grazie a te mi raccomando passami qualche ricetta vabbè fammi uno scam sentiamo il telefono stai facendo su vista su vista dappertutto guarda che nonna maria poi sentiamo pure il papa vero? e adesso iniziano le danze eh sventola sventola guardate gli arrosticini che spettacolo al top eh poco bombo eccolo eccolo bombarocolo questo non è come fa fuori eh è uno quanto stai a mangiare? che mi pari eh Filipe quanto stai a mangiare? sta buffa come un po' ma come fai la pegola? è buona? beh perché la pegola è buona come fa? come la mangi e la mangi è buona come fa? come fa? come qua? come fa la pegola? è questo come fa? come fa la pegola? come fa? come? 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 come fa la pegola? nooo guarda come mangia mmm preghiera anche tu eh sì stasera che noi abbiamo appreso la notizia da poco eh eh di Ericsson non amare niente ti raccomando eh sì sì non ti prego dopo prega anche per tutti perché è giusto? non hai giusto l'uomo